Quando smetti di imparare, cominci a morire, cominci a rimanere indietro, cominci a incartapecorirti, soprattutto nel giorno d'oggi in cui tutto corre molto più veloce, la società cambia, la tua crescita personale deve starci dietro, la tua carriera deve starci dietro, altrimenti rischi di perdere molte opportunità. Il modo principe per imparare probabilmente sono i libri. Sicuramente puoi imparare molto dai video, dai blog, dai podcast, eccetera. I libri, quelli buoni, contengono il riassunto di una vita di apprendimento, di solito, di anni di ricerca e di test, eccetera, eccetera. Se però continui a leggere i libri senza annotarti le cose importanti, le lezioni importanti, senza revisionarle, li butti via. Ed è un errore che ho fatto per tantissimo tempo, continuavo ad accumulare libri, qualcosa mi rimaneva, soprattutto quando le cose cominciavano a ripetersi, però molte cose le ho buttate via, perché non le salvavo, non le salvavo adeguatamente. Notion mi ha aiutato tantissimo in questo. Notion è uno strumento fantastico per prendere le note. Attualmente sto usando un metodo che si chiama Zettelkasten, che trovi riassunto, mostrato, anzi in dettaglio, un link in descrizione, sempre in Notion. Però Zettelkasten può essere un filino complicato per salvare le note dai libri. Allora oggi voglio mostrarti diversi metodi in Notion che ti permetteranno di creare il tuo metodo per salvare le note dai libri, salvare anche i libri, semplicemente la lista dei libri che vai a leggere, e in questo modo interiorizzare di più le lezioni che impari. Allora andiamo in Notion e ti ricordo che troverai un link al template con tutto quello che vedrai in questo tutorial in descrizione. Lo potrai scaricare gratuitamente. Quindi cosa facciamo? Allora, noi vogliamo salvare le note dai libri, quindi prima di tutto ci serve un database di note. Quindi lo chiamiamo semplicemente note e creiamo una nuova table. Seguirò una procedura che, se hai seguito gli altri video su Notion, ce ne sono parecchi su questo canale, è una procedura che avrai già visto un sacco di volte. Quindi se vuoi saltarla semplicemente clicca sui capitoli in descrizione e salta in avanti. Clicchiamo su New Database e ovviamente ci ritroviamo al solito database vuoto. Allora, questo è un database di note, quindi una nota sicuramente dovrà avere un titolo. Non possiamo evitare la prima colonna di testo, quindi intanto mettiamo il titolo. Sicuramente la nota potrebbe avere dei tag che potrebbero per esempio riguardare gli argomenti di cui parla, e potrebbe essere più di uno, e potrebbe essere ricorrenti tra diverse note. Anzi, meglio se sono ricorrenti, perché vuol dire che stai focalizzando la tua attenzione su argomenti utili. E questo potrebbe essere quanto, ma chiaramente possono tornare utili anche altre proprietà, come per esempio il momento in cui l'hai creata, in cui hai creato quella nota, e perché magari poi hai bisogno di recuperarle in ordine cronologico. Però, se sono note relative ai libri, allora hai bisogno di segnarti a che libro si riferiscono. La idea più banale è creare una proprietà di tipo testo in cui metti il titolo del libro. Un passaggio giusto, un filino più intelligente e pratico, è usare un campo di tipo select, che in sostanza è un altro tipo di tag, in cui tu, al posto del nome del libro, usi un tag. Perché? Perché tu vai a cliccare select e lo chiami titolo libro, oppure solamente libro, e così, attenzione, metti che puoi inserire più note dallo stesso libro, allora un giorno inserisci una nota e le dai come titolo, chiamiamola nota 1, ma è sostanzialmente di cosa parla la nota, breve riassunto di quello che parla la nota, e qui metti il titolo 1 del libro 1. e ci metti un argomento qualsiasi, che potrebbe essere crescita personale. Ah, questo non me l'ha preso, libro 1, eccolo qua. Il giorno dopo leggi un altro pezzetto e ti viene fuori una seconda nota dallo stesso libro. Allora, invece di andare qui a scrivere libro 1 e rischiare anche di fare errori di battitura, ti ritrovi il tag del libro. Altrimenti una versione più avanzata è creare un database di libri, e te lo farò vedere tra un po', e invece del tag usare la relazione con il database dei libri. Questo, se vuoi creare una pagina in Notion per ogni nota, come funziona questo approccio? Funziona che quando crei la nota, poi vai a aprirla, quindi clicchi su Open e inserisci qui il testo della nota, i tuoi pensieri e qualsiasi altra cosa ti interessi, a seconda di quanto tempo vuoi dedicare a quella nota. Così, come approccio generale, al di là di Notion, sicuramente ti conviene aggiungere i tuoi pensieri, o nel momento in cui metti la nota, o in una revisione successiva. e se tu scegli questa versione in cui metti una pagina per nota, allora questo ti accelera il processo di creazione, perché tu puoi aprire Notion, andare nella tua sidebar, cliccare sul più, e senza aprire il tuo database, avere direttamente la pagina per una nuova nota. E quindi metti la tua nota, scegli di nuovo l'argomento, e scegli di nuovo il libro. E poi metti qui altro testo della tua nota. Quindi avere una pagina per nota ti permette di velocemente aggiungere una nota mentre stai leggendo. Metti che stai ascoltando un audiobook, come succede a me spesso, soprattutto dopo che ho avuto mio figlio. Metti che stai leggendo, hai poco tempo per leggere e non vuoi perdere mezz'ora a tirarti giù la nota, allora apri il cellulare e clicchi sul più, apri il tablet e clicchi sul più, apri il computer, magari ce l'hai già acceso, e clicchi sul più, e aggiungi quella nota il più velocemente possibile. Questa è la soluzione, anzi chiamiamola così, una nota per pagina. Ok? Altrimenti potresti avere la soluzione di una pagina per libro. Per facilità creiamo un'altra pagina e la chiamiamo una pagina per libro. Ecco qui. Non ti ho fatto vedere, una nota per pagina l'abbiamo chiamato una pagina per libro. Nella soluzione una pagina per libro, di nuovo rifacciamo velocemente una nuova tabella, quindi un nuovo database. Attenzione, mi ha fregato con il caricamento troppo veloce. Allora, di nuovo, una pagina per libro, ecco, e creiamo una nuova tabella, e creiamo un nuovo database, quindi la chiave principale, la colonna principale, sarà il titolo del libro. Poi, di nuovo, potremo avere gli argomenti trattati nel libro. E poi altre note importanti. La cosa tipica che vuoi salvare di un libro è l'autore. Anche qui uso un campo select, perché voglio salvare eventualmente il nome dell'autore in maniera che sia riutilizzabile negli altri, vedi, autore 1, lo posso scegliere negli altri libri. Poi, potrebbe esserci una colonna del tipo data, e possiamo metterla finito, perché vogliamo tracciare quanti libri leggiamo ogni anno, per esempio. Questo spesso torna utile. Inoltre, talvolta, ha senso salvare i libri in base al loro stato. Quindi puoi dire, di nuovo, con una voce select, puoi mettere lo stato del libro, e gli stati possono essere da leggere, da letto, in lettura, abbandonato, perché vogliamo ricordarci dei nostri errori, non ripeterli, e anche riassunto. Cosa vuol dire? Che quando scopri un bel libro lo ficchi in da leggere. Poi, quando cominci a leggere lo metti in lettura, una volta che hai finito di leggere lo metti letto, e poi potrebbe sovrapporsi il discorso del riassunto, quando devi ancora finire di prendere tutte le note, usi lo stato riassunto. Questo se vuoi tracciare, appunto, il tuo progresso sui libri, quando leggi molto può tornare utile, o quando magari sovrapponi diversi libri, che è la tecnica che alcuni lettori usano per non stufarsi, sostanzialmente, allora ti conviene tracciare questo stato. Perché ti serve lo stato? Perché poi tu puoi creare una nuova view e usi il tipo board e invece non usi autore come proprietà per regolarla, ma raggruppi in base a stato. Ecco, e vedi che adesso sono tutti in ordine sbagliato, nonostante li avessi ordinati, e hai bisogno di metterli in da leggere, in lettura, in abbandonata. Vabbè, e poi di solito uno stato che non si può togliere. Un po' come ti ho fatto vedere in diversi tutorial in cui ti parlavo dei task e di altre cose di cui vuoi tracciare il progresso. Ok, allora, questo qui può essere il tuo database per i libri. Quindi tu hai una pagina per ogni libro. Come lo usi, come crei una nota? Allora, cancelliamo tutto così è più chiaro. seleziono e cancello. Quando cominci a leggere un nuovo libro, clicchi su New e chiamiamolo Libro 1, apri la pagina, tieni aperta quella pagina mentre leggi e man mano che ti vengono le note, le aggiungi così, nota 1, nota 2, nota 3 e avanti così. Niente di fantascientifico, ma spesso mentre leggi non hai già in mente tutta la struttura delle informazioni che andrai a estrarre da quel libro. Quindi un approccio che ho usato io e che ho visto usare da molti appassionati di crescita è quello di all'inizio creare un documento amorfo e poi magari andare a revisionarlo più avanti. E quindi aggiungi le note così a caso e eventualmente puoi aggiungere anche degli screenshot, soprattutto se usi il cellulare con il più vai ad aggiungere le immagini screenshot delle pagine, delle immagini dentro il libro eccetera e chiaramente poi quando la prima volta che lo crei vai ad aggiungere gli argomenti quindi per esempio crescita personale poi metti scegli l'autore e dici che lo stai in lettura per esempio e ogni volta che cominci a leggere vai ad aprire quella pagina e magari te la tieni aperta nella tua app su Notion all'interno del tuo cellulare ed è una cosa che ho fatto spesso soprattutto con gli audiobook andavo in giro con gli auricolari mi ascoltavo l'audiobook se mi veniva fuori una nota mettevo in pausa tiravo fuori il cellulare avevo già la pagina aperta bastava sbloccare e mi andavo a scrivere velocemente quello che avevo quello che avevo imparato quello che avevo sentito questo qui è un altro approccio qui c'è l'approccio in cui metti una nota per pagina e poi una pagina per libro e scegli qual è il più il più comodo chiaramente torniamo alla nota per pagina se tu salvi una nota per pagina e vuoi recuperare velocemente le note per uno specifico libro la cosa più facile più sensata è quella di creare una view all'interno del una nota per pagina e chiami questa view libro 1 per esempio 1 attenzione adesso vi faccio vedere è esattamente la copia di quella precedente perché non ho fatto nulla in questa view tu crei un filtro in cui filtri in base a libro e scegli vedi scegli solamente la metti la spunta solamente sul libro 1 quindi in questa view avrai solamente le note che appartengono al libro 1 chiaramente c'è un piccolo difetto nel momento in cui leggi tanti libri avrai un miliardo di view per una per ogni una per ogni libro quindi può diventare scomodo altrimenti in alternativa quando hai bisogno di un libro clicchi sulla ricerca e scrivi libro 1 ecco qua e ti compare tutto quello che contiene libro 1 o altrimenti senza creare una nuova view clicchi su filter e metti un filtro qui quindi qui cerchi libro 1 ma quando hai finito di guardare questo filtro clicchi qui e lo togli lo rimuove o ancora puoi cliccare su sort e riordinare in base al libro e quindi puoi mettere in ordine ascendente o discendente è totalmente indifferente e quindi ti ritrovi le note riordinate per libro e di conseguenza sai che una serie di note conseguenziali sono quelle relative al tuo libro capisco che queste cose sono un po' da nerd e ti sembrano probabilmente un po' troppo però la carta e penna è insufficiente prima o poi devi digitalizzare e questa cosa sembra complicata adesso che te la spiego in teoria nel momento in cui la cominci a mettere in pratica allora le cose un po' migliorano diventano più snelle e più sei allenato più diventano una natura per te ecco ora continuiamo la nostra overdose di database perché adesso che hai una nota per pagina e hai i libri taggati in realtà quello che manca è quello che ti avevo preannunciato prima puoi usare un database di libri e cominciare ad usare le relazioni invece che i tag e può essere molto più intelligente come si fa qui? allora di nuovo vado a creare una nuova pagina e vado a creare un database che lo chiamo libri ok? qui di nuovo creo una nuova table e di nuovo vado a usare il database questo sarà il database dei tuoi libri allora in sostanza facciamo la stessa cosa che avevamo qui in una pagina per libro solamente che poi lo colleghiamo a una nota per pagina allora per semplicità in realtà posso andare semplicemente a duplicare una pagina per libro e così ti mostro come si usano queste forciatoie il database libri che avevo inizialmente creato non mi serve più rinomino questa copia in libri ok? e giusto per non far confusione durante questo tutorial cancello tutto quello che c'è e cancello anche questa board così hai visto anche come si riciclano i database ok? questo sarà il mio database dei libri che ha i campi che abbiamo visto prima il titolo del libro gli argomenti l'autore potrebbe essere autori in realtà quando l'ho finito e l'ho stato ok? magari finito è stato in questo caso non ci serve ma non è un problema allora mettiamo qui dentro lo chiamiamo libro 2 perché c'è già libro 1 dall'altra parte e con l'autore l'autore 2 e come argomento mettiamo business ok? giusto per avere un esemplare se tu hai già visto altri tutorial in cui ho usato le relazioni probabilmente stai già intuendo cosa voglio fare in sostanza qui in una nota per pagina voglio collegare tutte le pagine di uno stesso libro con il database dei libri non usare quindi i tag come si vede qui ma usare una relazione che è uno dei grossi vantaggi di Notion perché Notion è un database non è un foglio di calcolo o un strumento per solamente prendere note come Evernote allora se clicco qui su più aggiungo una proprietà che sarà una relazione la relazione sarà con il database dei libri e vediamo facciamola vedere anche nel database dei libri quindi vuol dire che il database delle note ha un collegamento ogni nota è collegata ad un libro e ogni libro è collegato ad una o più note tra l'altro e quindi la nota è vedi a due versi clicchiamo su ok possiamo aggiungere una proprietà correlata ma in questo momento non la aggiungiamo clicchiamo su Add Relation a noi compare la relazione con i libri chiamiamola libro invece che libri non posso perché ho già qui il libro come tag ok chiamiamola solamente libri ma in sostanza potrei cambiarla adesso le lascio tutte e due ma tu deciderai se usare o il tag o la relazione con il database quindi se io scrivo la mia nota 4 oppure facciamo come ti consigliamo prima creo così con il più la nota e la chiamo nota 4 posso aggiungere il libro cliccando qui e scegliere l'unico libro che c'è dentro il database quindi libro 2 ok quindi ogni volta che aggiungo una nota collegata relativa a quel libro vado semplicemente a cliccare più e poi scegliere libro perdonami scegliere libro nella relazione e cliccare libro 2 ok di nuovo perdonami che non si vede facciamo così chiamiamola nota 5 e mettiamo libro 2 grazie inoltre grazie a questo possiamo usare gli stessi stratagemi di prima per raggruppare le note di uno stesso libro di conseguenza possiamo andare qui possiamo creare una view e applicare un filtro in cui prendiamo la relazione che contiene solamente il libro 2 oppure possiamo tornare qui aggiungere il filtro temporaneo o aggiungere il sort temporaneo e vedi tra l'altro che i filtri rimangono qua basta poi riattivarli ok allora in questo senso la cosa è molto più razionale perché un libro non è solamente un tag ma è una sua entità inoltre questo ci permette di andare nel database dei libri e adesso guarda siccome è bidirezionale la relazione questo libro il libro 2 ha una sua relazione che rimanda a tutte le note collegate a quel libro e questo secondo me è la cosa più intelligente e potente perché tu puoi dire ok tra un mese sei mesi un anno ritorno al mio database dei libri e dico quel libro era interessante ma cosa era veramente interessante e nella pagina del libro oppure direttamente dalla tabella trovo la lista di tutte le note quindi cosa faccio clicco e trovo e leggo la nota e poi mi basta tornare indietro la pagina clicco e leggo l'altra nota eccetera poi se vuoi una cosa super nerd attenzione nella puoi usare i roll up cosa sono i roll up allora aggiungiamo una relazione una proprietà di tipo roll up il roll up permette di estrarre e anche elaborare talvolta informazioni da una relazione quindi per esempio se io prendo la relazione l'unica che ho creato quella con libri posso pescare una un'altra proprietà quindi vado a pescare per esempio argomenti ok e clicco su show original cosa succede che quindi a questo punto non mi serve più argomenti qua perché l'argomento è pescato dal dal libro ti spiego di nuovo modifichiamo di nuovo questa proprietà ho creato una proprietà roll up che si basa sulla relazione libri quindi sulla relazione con il database dei libri e poi prende la proprietà argomenti e la mostra in questo database e non ci sono grandi altre cose che posso fare non essendo un numero perché non posso elaborare questa cosa la posso fare per esempio per l'autore o per lo stato in sostanza e il roll up mi permette di estrarre informazioni che ho inserito nel libro e non doverle reinserire ogni volta nella mia nota se no ogni volta che inserisco una nota relativa al libro allora devo perdere tempo per segnare l'argomento quindi a questo punto la procedura diventa attenzione quando comincio a leggere un libro lo inserisco nel database dei libri ogni volta che leggo inserisco una nota scelgo per quella nota il libro e basta l'autore argomenti qualsiasi altra informazione viene pescata dal database dei libri so che magari a te non entusiasma tantissimo questo ma se vuoi fare le cose che ti permettono di crescere spesso il tempo non è sufficiente ogni volta che riesci a risparmiare un secondo allora hai risparmiato un secondo per un'azione ripetitiva allora nel corso dell'anno vai a risparmiare settimane e intanto hai alimentato la tua crescita con i libri ora rubiamo un concetto dal GTD dal sistema GTD di David Allen creiamo un'altra pagina potrebbe essere un database ma intanto chiamiamo un'altra pagina e la chiamiamo inbox e anche questa sarà una tabella qui dentro metteremo le nuove note mettiamo un nuovo database e quindi gli diamo un titolo ok cancello questo cancello questa proprietà ho dato veloce perché sono sempre le stesse azioni di prima questa sarà la inbox delle tue note anzi chiamiamola inbox note e questo qui può essere il modo più veloce in assoluto di prendere note dai libri cioè invece di ogni volta che inserisci la nota scegliere il libro che comunque è una sola azione però magari c'hai proprio fretta di scriverla o vuoi metterla a voce quindi non vuoi metterti a inserire le proprietà allora tu puoi andare a inserire una nota qui nota 1 chiamiamola punto finito e ti scrivi le cose dentro o addirittura metti il testo della nota qua dentro ecco il testo della nota punto e poi una volta alla settimana rivedi questo database questa potrebbe essere anche una lista non serve che sia una tabella e inserisci a mano a quel punto la nota dentro il il tuo database delle note oppure nel tuo database una nota per pagina a quel punto devi aggiungere una checkbox così non hai un database semi inutile senza nessuna proprietà e quindi aggiungi una proprietà e la chiami andiamo è una checkbox e la chiami inbox e oppure possiamo anche chiamarla rivista rivista richiama un po magazine revisionata chiamiamola così cosa vuol dire vuol dire che quando inserisci una nuova nota e la vuoi inserire super velocemente usi il più qui dai cominci a scrivere la tua nota nel modo più veloce possibile e non fai nient'altro una volta alla settimana poi guardi tutte le note che non sono state revisionate e ci metti ci metti la spunta nel momento in cui la revisioni perché prendi questa qui ok questa non ci avevo messo dentro niente no questa in realtà ci avevo messo dentro qualcosa e prendo questa qui che ha solo la nota ci assegno un libro ci rivedo il testo e a quel punto poi clicco su revisionata e so che non devo più toccarla non ho più bisogno di toccarla quindi in sostanza le note non revisionate sono la tua inbox allora a questo punto clicchi qui fai una view la chiami inbox e sarà una tabella in cui semplicemente filtri tutte le note in base a revisionata e metti tutte le unchecked ok quindi ogni settimana andrai a vedere questa inbox in cui ci sono tutte le note non ceccate non spuntate e le inserisci dentro correttamente assegni il libro le rivedi eccetera le ripulisci e poi clicchi su revisionata e spariscono da questa visualizzazione così ora voglio darti poi un consiglio bonus spero che tu legga i tuoi libri sul kindle perché non vuoi ammazzare troppi alberi e occupare troppo suolo con le tue mega librerie io uso il kindle da un millennio ormai e tipicamente evidenzio i passaggi mentre li leggo chiaramente il modo più veloce poi di salvarmi le note è trasferirle dal 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 kindle dentro un database di notion ma ti sembrerà assurdo non c'è un metodo automatico per farlo la cosa che ho fatto spesso è questa uso un servizio che si chiama attenzione clippings punto io è gratis c'è anche la versione a pagamento ma per tipo bastare quella gratuita quando tu sei vuoi aggiungere un nuovo libro quando hai finito un libro vuoi trasferire i tuoi highlight le tue sottolineature clicchi su import e lui ti permette di usare l'estensione chrome ma per questo ti serve la versione a pagamento oppure di importare un file se clicchi file import lui ti dice la procedura molto semplice colleghi il kindle via usb al computer trovi nella cartella document il file myclippings punto txt e fai lo trascini qua dentro e lui lo carica funziona sempre l'ho usato un sacco di volte poi tu ti ritrovi i tuoi libri nella tua nella tua libreria e quando apri un qualsiasi libro trovi la lista vedi di tutte le sottolineature che hai fatto c'è solo un piccolo problema che credo dipenda da come amazon gestisce le sottolineature quando fai una sottolineatura e poi la cancelli e la la modifichi l'allunghi o l'accorci l'ho fatto diverse volte te ne trovi due ma insomma mi sembra un problema da da poco a questo punto tu puoi copiare queste sottolineature dentro il tuo notion allora hai due approcci o le rileggi e copi solo quelle che ti interessano perché a distanza di un po' di tempo ti accorgerai che non tutto quello che hai sottolineato era interessante oppure le copi in blocco e poi le rivedi dentro notion la procedura che ho fatto io spesso la procedura diciamo migliore che sono riuscito a seguire è prendere note interessanti trasferire in notion e poi magari anche rielaborarle e metterci delle parole di collegamento e selezionare comunque solo le cose più importanti poi se ci sono note che si ripetono tra loro o che magari vanno cambiate di ordine perché ti piacciono in uno schema diverso anche quello è una buona procedura ovvero ricombinarle riordinarle e comunque come puoi immaginare tu puoi se vuoi semplicemente andare a sottolineare un blocco di note cliccare ctrl c tornare sul tuo notion e a questo punto se usi l'approccio è meglio usare questo se usi l'approccio una pagina per libro aggiungi un nuovo libro e chiamiamolo libro 7 giusto per cambiare un pochino e qui vai a incollare vedi tutte le note l'unica secrature che compaiono queste exp gd 183 184 che corrispondono a un'informazione sua interna e quindi magari per fare un bel lavoro dovrai ripulire ok ti ho completato questa panoramica nerd di come salvare le note dai tuoi libri e chiaramente l'importante è che una volta che le hai riviste in questo modo già rivedendole te ne ricordi meglio ma in più avendo questo database così riordinato sarà facile andare a ripetere le lezioni che hai appreso andare a creare riassunti potresti addirittura creare contenuti e prodotti dalle tue note che sono ben riordinate e strutturate se questo video ti è piaciuto clicca mi piace ti ringrazierò infinitamente e fallo sapere ai tuoi amici diffondi il verbo come dico ai nostri fan più sfegatati ti ricordo che in descrizione c'è un link per scaricare il template di tutto quello che hai visto in questo tutorial lo raggrupperò tutto all'interno di una singola pagina così sarà molto più facile da gestire è gratis basta iscriversi alla nostra lista email che tra l'altro poi ti dà del valore aggiunto anche ogni ogni sabato gratuitamente se hai qualsiasi domanda mettila nei commenti se ti serve qualsiasi altro tutorial su Notion o su altri software che servono per il tuo lavoro e la tua vita soprattutto da imprenditore e da freelance lasci nei commenti e guarda in descrizione se poi hai bisogno di un aiuto più specifico perché ti posso aiutare con le nostre consulenze grazie mille e al prossimo video ciao